Questo progetto è stato promosso dalla Regione Marche per far conoscere ai ragazzi la protezione civile, i piani di emergenza e l'anticendo boschivo. Questo campo che viene fatto nel comune di Montefelcino dal gruppo comunale di protezione civile è composto da vari volontari e 28 ragazzi che si fermeranno da oggi 30 agosto al 3 settembre H24. Con noi collaboreranno anche le forze istituzionali, la polizia di stato, i carabinieri, i carabinieri forestali, i vigili del fuoco e altre protezioni civili che ci daranno una mano a spiegare tutto quanto è relativo a cosa facciamo noi come protezione civile. Diciamo che il nostro intento è di fargli vivere 5 giorni come se fossimo in emergenza. Faremo delle esercitazioni come antincendio boschivo, una parte la faremo qui nel nostro campo e una parte con il comando della forestale andremo nei boschi a far vedere cosa succede prima di un incendio e dopo. Poi spiegheremo anche il nostro territorio, faremo comprendere ai ragazzi che il nostro territorio non è composto solo dal capoluogo ma anche da tutto il contorno perché il comune di Montefelcino ha 40 km2 di estensione. Le nozioni che insegneremo in queste giornate sono importanti sia nella vita privata, come comportarsi in caso di emergenza e portarle nelle proprie famiglie e magari avvicinandoli in un futuro nel gruppo della protezione civile qui del nostro comune. In modo che possono poi a 16 anni diventare cadetti, fare i corsi e poi a 18 anni essere attivi al 100%. Questa giornata già nei momenti delle organizzazioni i ragazzi erano con un evidente interesse, avevano già creato un gruppo tra di loro per potersi poi organizzare nell'ingresso di questa giornata. Speriamo che dopo questa prima edizione qui a Montefelcino, speriamo che negli anni a venire ci sia una partecipazione dei ragazzi ricca come questa prima edizione.